Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio svelare il trucco del mazzo Svengali, il mazzo più famoso al mondo, ed è un mazzo truccato appunto. Allora, praticamente il trucco sarebbe che lo spettatore ripetutamente pesca sempre la stessa carta. In questo caso magari c'è un mazzo che mi ha passato un mio amico che si chiama del Mago Casanova, che a mio parere fa schifo Casanova, che invece che fa, cioè la carta truccata è il giac di cuori. Allora, il trucco qual è? Praticamente il metà mazzo è formato da giac di cuori e il metà mazzo da carte normali, solamente che il giac di cuori è più piccolo di un millimetro rispetto alle altre carte. Quindi se io le scorro da un lato si vede un solo carta normale, mentre se le scorro dall'altro si vede un solo giac di cuori. Ora vi do una dimostrazione. Per esempio, se io faccio così, vedete tutti i giac di cuori, solamente i giac di cuori. Perché essendo più piccolo di un millimetro si vede solo i giac di cuori. Mentre se io le scorro in questo modo, si vedono carte diverse. Adesso provo a fare un po' più piano. Se vedo carte diverse. Il trucco è molto facile, è tutto naturale il trucco. Basta comprare un mazzo svingale che si trova in qualsiasi negozio di magia, che è il più famoso al mondo, quindi dappertutto si trova. E costa anche poco, non costa molto. E il trucco è naturale, basta che voi scorriate le carte in questo modo e il trucco viene da solo. Insomma, volevo solo svelarvi questo breve trucco e ciao alla prossima. Iscrivetevi, mi raccomando. Iscrivetevi, mi raccomando.